che ci fanno vedere che cosa sta accadendo in queste ore in Sicilia. Negazionismo climatico, c'è quello letterale, ma ci sono anche altre forme di negazionismo come appunto l'ostruzionismo, il dilazionismo, anche solo parlare di siccità, cioè le parole ci fanno capire che quanto sia ormai insostenibile questa situazione sul lungo periodo, la siccità non è più un'emergenza, è la nostra nuova normalità. Noi dobbiamo capire che ci troveremo di fronte delle siccità cicliche, peraltro già annunciate, nel senso che non è una sorpresa quello che sta succedendo in Sicilia. La Sicilia viene da un inverno siccitoso terrificante. Due anni fa, nel 2022, forse ce lo siamo già dimenticato, ma è toccato al nord, come appunto stavolta, come sappiamo, è toccata la Sicilia, poi finché non arriva dentro casa nostra non ce ne rendiamo conto. Però quello che dobbiamo capire è che noi non è che ci possiamo adattare a tutto, c'è un margine di adattamento che diminuisce con l'aumento della temperatura. Quindi oggi, con una temperatura di un grado e mezzo, il nostro margine di adattamento è del 30%, con una temperatura di due gradi, è già del 60%. Cioè noi dobbiamo capire che si tratta non di misure tampone, non del commissario, qui bisogna ripensare il nostro modello di sviluppo sulla base delle disponibilità idriche che abbiamo. E la destra su questo che dice? Poi sediamo Dragoni e tutti gli altri. Il problema è che nella realtà immaginaria della destra il nemico è la transizione ecologica, il nemico sono le politiche ambientali dell'Unione Europea, contro cui si vota sempre contro, il nemico sono le politiche dell'agricoltura che, guarda caso, volevano risolvere proprio in modo strutturale il problema del cambiamento climatico, perché noi non ci rendiamo conto che l'agricoltura come noi l'abbiamo sviluppata fino ad oggi, non è più possibile semplicemente perché siamo in un altro regime climatico. E allora qui l'agricoltura lì dice...